Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon mercoledì 20 luglio, una mattinata che si apre all'insegna del sole, quella di oggi a Torino, dopo che ieri abbiamo avuto qualche sprazzo di autunno con delle temperature decisamente basse e pioggia molto intensa durante il periodo del primo pomeriggio, oggi c'è il sole, vedremo tra poco che cosa ci aspetta per il pomeriggio di oggi, intanto andiamo a vedere qualche notizia di viabilità perché ci sono delle importanti variazioni per quanto riguarda i mezzi pubblici per le giornate di domani, giovedì 21 e venerdì 22, sono stati infatti indetti due scioperi per queste due giornate, due scioperi dei mezzi GTT, nella giornata di domani, giovedì sciopereranno i mezzi extraurbani e le linee 19, 37, 43 e 46 barrato del servizio urbano, i mezzi circoleranno dalle 6 alle 9, dalle 12, scusate, da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30, mentre invece nella giornata di venerdì 22 sciopereranno i mezzi urbani, suburbani, la metropolitana e le ferrovie, mezzi urbani, suburbani e metropolitana saranno presenti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, le ferrovie invece effettueranno servizio da inizio fino alle 8 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30. Per il dettaglio di come funzioneranno questi scioperi vi ricordiamo che potete consultare il sito di GTT che trovate collegato dalla nostra prima pagina e ovviamente andare a visitare la prima pagina del sito della città. Sempre sulla viabilità vi ricordiamo che sono ancora in corso in questi giorni i lavori e lo saranno fino a venerdì i lavori del sottopasso Lanza, quello di Corso Massimo d'Azeglio, sono al momento nella carreggiata ovest che è quella che scende verso Moncalieri, quindi lavori che caratterizzeranno quel punto della città fino a venerdì, dopodiché il sottopasso ritornerà alla sua tradizionale viabilità. Dicevamo del tempo, vediamo allora qual è la situazione prevista per quest'oggi, in questo momento abbiamo sole in città, temperature che sono intorno ai 22 gradi, umidità abbastanza stabile sul 50%, abbiamo un po' di vento che espira da est, ma raffiche molto deboli, intorno ai 10 km orari, questo significa che per la giornata di oggi non dovremmo avere pioggia finalmente, dopo tutta quella che è caduta nella giornata di ieri, temperature comunque che hanno risentito e risentono ancora dell'acqua caduta ieri, quindi siamo intorno a massime sui 25 gradi nelle ore più calde del pomeriggio, vi segnalo soltanto che il sole oggi splenderà e splenderà parecchio, per cui nelle ore a cavallo del pranzo, specialmente intorno alle 14, l'irradiamento solare sarà molto forte, l'indice UV intorno al valore 9, quindi è necessario per le persone più sensibili e delicate e con la pelle più delicata proteggersi un po', specialmente per i bambini ovviamente. Vediamo gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi, vi segnalo che questa mattina in Corso Palermo 122 sarà presentata durante una conferenza stampa tutta la serie dei nuovi progetti per Urban Barriera di Milano. Alle 15 poi a Palazzo Civico il sindaco riceverà il console generale di Polonia, Christoph Stralca e questa sera alle 20 alla Mole Antonelliana il sindaco sarà presente alla celebrazione dell'undicesimo compleanno del Museo del Cinema, cinema che ritroveremo tra poco anche nelle notizie di Torino Click. La prima notizia che vi segnaliamo però dall'edizione pubblicata ieri sera di Torino Click è quella relativa al parcheggio Cittadella, un parcheggio che come sapete è in corso di realizzazione già da alcuni mesi, i lavori si concluderanno nel giugno del 2012, però ieri la Giunta ha approvato una variante al progetto che permetterà di creare circa 69 box auto in più rispetto a quanto previsto, quindi da 297 si passerà a 366 a parcheggio ultimato, saranno ovviamente posti in vendita a termine dei lavori, non ci saranno variazioni per quanto riguarda la sistemazione superficiale della piazza. Dicevamo cinema prima perché la seconda notizia riguarda proprio questo, riguarda il festival che così possiamo chiamare, che già da qualche anno caratterizza la città, si chiama Una Notte sui Tetti, un festival dove i film vengono proiettati su alcuni tetti particolari della città di Torino che intende riprendere quello che è il Rooftop Films, un festival che già da molti anni caratterizza la città di New York, si tratta di film che non hanno trovato una distribuzione nel mercato cinematografico italiano, vengono quindi proiettati in anteprima e preceduti da un intermezzo musicale. Il prossimo appuntamento ve lo segnalo è quello di questo giovedì 21 luglio alle 21.30 sul tetto dell'Environment Park in via Livorno nella palazzina B2, la proiezione sarà del film There's Nothing to Think, un film italiano del 2010. Adesso ci spostiamo sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto questa mattina per voi tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, la notizia è quella relativa al numero verde pronta estate che fino al 2 di settembre informa all'800 019 531 su tutti quelli che sono i servizi attivi in città per chi rimane durante il mese di luglio e quello di agosto, potete avere qui un valido riferimento per qualsiasi evenienza. Ora un'ultima occhiata al traffico con le telecamere del Consorzio 5T, andiamo a vedere la situazione in diretta in Consumo Calieri, direzione sud, come vedete il sole la fa da padrone questa mattina in città, non c'è particolare traffico in quella zona della città. Ci spostiamo poi in direzione di Beinasco, qui la situazione è abbastanza tranquilla, non ci sono problemi in uscita dalla città da quel punto, andiamo a vedere poi Piazzale Caio Mario, direzione sud, Corso Unione Sovietica, non ci sono grandissimi problemi anche qui, il traffico scorre tranquillamente e infine chiudiamo con la Rotonda Maroncelli dove a dire il vero, il traffico c'è sempre, ma anche questa mattina sembra che tutto vada per il meglio. Bene, è tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a tutti voi l'auguro di una buona giornata.